Salve popolo di youtube, io sono Alex Warboxer e vi do il benvenuto in questo nuovo video discussione. Oggi vorrei prendermi un paio di minuti per parlare un po' dei contenuti del canale e della community. Inizieremo proprio partendo dai contenuti. Come più fedeli sanno ormai i contenuti stanno seriamente scarseggiando, fortunatamente nell'ultimo periodo sono riuscito a trovare alcuni format come per esempio quello della colonizzazione per riuscire in un modo nell'altro a tirare un po' avanti, però dobbiamo capire che seriamente i contenuti stanno scarseggiando parecchio. Devo dire che comunque apprezzo sempre i consigli che mi date nei commenti, anche se spesso alcuni video sono o troppo difficili da analizzare o addirittura impossibili, altri invece magari sono fattibili ma garantiscono troppo poco contenuto o comunque un video di scarsa qualità diciamo. Inoltre una delle cose su cui puntavo di più nell'ultimo periodo era l'aggiornamento di Warbox. Il problema è che dalle ultime aggiornamenti possiamo capire che l'aggiornamento non arriverà prima di marzo 2024 e quindi ci saranno ancora 3-4 mesi di attesa prima di avere nuovi contenuti che poi per carità saranno molto interessanti ma c'è ancora tanto tempo davanti. L'alternativa migliore a cui ho pensato chiaramente è quella di portare giochi diversi anche se finora non sono stati molto apprezzati. Ho provato a proporvi un gestionale survival e non vi ho fatto impazzire. Ho provato a portare un gioco competitivo geografico, l'avete bocciato al massimo. Ho provato a portare un gioco horror e anche quello è andato male quindi da questo possiamo capire che la maggior parte di voi iscritti mi segue solo per Warbox e attenzione in questo non c'è nulla di sbagliato, mettiamolo bene in chiaro. Il problema però è che adesso non so veramente come muovermi. Vi ricorderete che qualche giorno fa ho fatto un post qua su youtube in cui vi chiedevo se vi sarebbe piaciuta vedere una serie narrata, una serie fantastica su Warbox e la cosa vi è piaciuta. Il problema è che la mia idea era di farla con la nuova versione perché aggiungeranno molte cose che possono andare a favore, diciamo possono creare cose molto interessanti e sinceramente fare questa cosa con questa versione di Warbox mi sembra molto riduttivo e non in linea a quello che effettivamente vorrei che uscisse. Avendo però questa bella idea rimandata di qualche mese al momento rimango veramente con un pugno di niente in mano perché veramente io non so più come muovermi, non so più cosa fare e non vi sto nemmeno chiedendo di consigliarmi nei commenti nuovi video da fare su Warbox perché veramente me ne avete consigliati tantissimi. Il problema è proprio che non so più cosa fare, non so cosa mi conviene fare e non so più niente. Non vi sto nemmeno chiedendo di consigliarmi nuovi giochi da portare anche perché spesso mi consigliate giochi che non mi piacciono, che non possiedo o che comunque non vedo adatti sul canale. La verità è che non so nemmeno io cosa chiedervi in particolare. Comunque penso di aver detto tutto quello che avevo da dire quindi vi ringrazio se avete guardato il video fino a qua. Vi chiedo ovviamente di esprimere un vostro parere nei commenti o qualsiasi cosa sapete che vi leggo tutti in un momento come questo ne ho davvero bisogno. Infine se guardate regolarmente i miei video e non siete ancora iscritti vi invito a farlo perché comunque mi aiuta. Con questo io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.